Marco, mi sono stata una telefonata al Baldini Nazionale, a questa qui è un po' come quando sono venuto a cena, la cena di Natale, il pranzo di Natale una settimana prima. Siamo venuti per controllare il cantiere. No, ma eravamo venuti, nella testa tu eravamo venuti per fare un video con una Ferrari. Io ti ho chiesto, l'hai sentito Fabio? E mi fai, no. Io ti ho detto, l'ho chiamato, stamattina non mi ha risposto, provaci te. E ti ha risposto? Manca a te. E al telefono, manco ce l'ha. Fabio, ma tu ti ricordavi che questo scemo ti ha chiamato per confermare che venivamo a fare video? Vabbè, ma non è che ha fatto il viaggio a vuoto, stiamo a gettarsi l'aglio, c'è una mano. Io penso, io penso, io penso che due braccia levata all'agricoltura possono essere usate anche nell'edilizia, no? E d'altronde Roma è una bella città, Roma è una bella città. Dico, venire a Roma è sempre bello. Ma se no Fabio, scusami, io l'idea ce l'ho. Stai scorsato. Stai scorsato, prendiamo una, come si chiama? Due palacche. Due palacche per una. Allora, dai due cazzuole, c'è vero due cazzuole ragazzi, che questo vi ha voluto dare una mano lui, eh? Ma no. Questa tanta ricorgirà che ci tiene. Senti, ci stanno i resi qua. Allora, il caffè però lo prendiamo Fabio. Secondo te stavo male? Una settimana prima per il pranzo. È il giorno che sarà da gettata, che la trova. Ti va la vita, no? Tu hai il caffè a casa Baldini, festa sempre. Buongiorno, ben alzato. Buongiorno. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Grazie.